buongiorno a tutti guardate che bella sorpresa che vi faccio che bel regalo buon sabato 28 settembre vediamo di cominciare a suonare la carica vediamo di rimettere piano piano senza fretta tutte le cose al loro posto guardate che bel regalo che è arrivato un frigorifero marchiato addirittura inter le nostre maglie le nostre consuetudini il tè caldo più famoso di youtube quartier generale recuperato anche se sarà ancora lungo e difficile ringrazio ancora subito per tutto l'aiuto il sostegno che continuate a dare ma soprattutto lo dovete dare al canale cercando nuovi iscritti cercando di appunto aiutare in questo momento difficile complicato alla ricerca oggi di una vittoria la prima in trasferta che manca da 141 giorni pensate l'ultima a Frosinone guarda un po' ultimo gol in nero azzurro di Lautaro Martinez che come vi avevamo detto ci risultava assolutamente poco una sua esclusione e i cambi infatti saranno minimi da parte di Inzaghi quei tre cambi che abbiamo sempre detto essere la misura giusta per non snaturare la squadra e per cercare di di andare a fare una grande partita quindi proviamo anche a trovare la prima vittoria in trasferta abbiamo messo maglia argentina per favorire il gol di Lautaro manca solo quello nel derby l'abbiamo visto in crescita per lasciarsi alle spalle il periodo più difficile ma neanche lo sapevamo sarebbe stato così Inzaghi gli ha chiesto di ridursi le vacanze di tornare prima in estate perché si era fatto male Taremi perché voleva cominciare col piede giusto poi a Genova è iniziata male con quella disattenzione con quel tocco di mano Lautaro che avrebbe dovuto giocare poco è rimasto in campo tutta la partita ha avuto un problema fisico e da lì insomma un gatto che si morde la coda e non si è ancora sbloccato lui poi lo conosciamo bene quando inizia a non segnare si fa un po' condizionare dall'ansia da questa mancanza per il gol cerchiamo di risolvere tutto con occhiale scaramantico poi figurine del nipotino e di tutte le edizioni da Andanovic ai campioni stellati bistellati con tutte le nostre scaramanzie Pronti per la partita di oggi Formazione Abbiamo detto tre cambi rispetto al derby Uno obbligato e pesantissimo l'assenza di Barella con la chance a Frattesi che proprio a Udine ha dato tre punti d'oro per lo scudetto con uno dei suoi gol last minute Sperando che dia una prestazione delle garanzie che quando gioca titolare non sempre arrivano come quando subentra Anche lui deve crescere Poi Darmian al posto di Doomfries a destra L'altro cambio Che poi Una logica turnazione Ibisec al posto di un Pavard Che non è ancora al top della condizione E con Touré sui due metri Con Lucca anche lui Servono centimetri Dunque questa è la scelta Di Inzaghi Che manda ancora in campo a Cerbi Che non è Diciamo parso tra i più In forma nel derby Anche perché è stanco dopo la battaglia con Holland Intanto si sta completando Si sta cucinando Finalmente si torna Al te caldo più famoso di Youtube E andiamo a snocciolare quindi la formazione nel dettaglio con Sommere in porta Bissec A Cerbi Bastoni Darmian e Di Marco Sugli esterni In mezzo al campo Cialanoglu Con Frattesi E Mkhitaryan A cui non rinuncia ancora Inzaghi A cui secondo me vuole dare anche La possibilità di rifarsi dopo la brutta prestazione del derby Stesso discorso per l'attacco con Turam E Lautaro Martinez Vi dimostra anche Questa scelta Quanto sia importante la partita di oggi Per cancellare subito il derby Per muovere la classifica Per cercare di vincere In trasferta la prima volta in questa stagione Contro una squadra che le ha vinte tutte in casa Che ha due punti in più in classifica Rispetto all'Inter Qualche problemina in difesa Ma sicuramente una delle rivelazioni Che venderà cara la pelle Partita molto molto difficile Da prendere con le pinze Quindi penso che se ci dovrà essere turnover Lo si vedrà Forse più Nella partita di Champions Contro la Stella Rossa Quindi Vediamo se saranno le scelte giuste Adesso cerchiamo anche di capire Se riusciremo a fare delle live Naturalmente rimanete sintonizzati Sul gruppo Telegram Scaricate l'app nello store del vostro telefono È gratuito Un servizio di messaggi come Whatsapp Da lì vi comunicheremo Se faremo anche una live durante la partita O stasera O nel pomeriggio Aspettando anche le altre gare Come abbiamo detto L'incredibile Diciamo derby di Genova Fuori dal campo Ha portato anche a chiusura Genova-Juve Oggi si gioca a porte chiuse Lo stesso farà la Sampdoria Scene Veramente inguardabili Punizioni esemplari subito Come è giusto fare Per degli episodi Che speriamo non si vedano più Ormai anacronistici Con tutta quella guerriglia urbana Per una partita di calcio Un derby Che di solito è Colore sfottotra Con cittadini Cose che abbiamo già Diciamo condannate Ieri Continueremo a farlo Ieri sera un Milan Che sembrava un po' in difficoltà Poi si è sbloccato In cinque minuti Ha risolto la pratica Lecce Andando a raggiungere momentaneamente Il Torino in testa della classifica Stessa cosa che speriamo riesca a fare l'Inter Anche se l'avversario è molto più difficile Un pochino più stanco Per in alcuni suoi elementi Dato che ha giocato in Coppa Italia In settimana Conquistando appunto la possibilità Battendo la Salernitana Di giocare contro l'Inter Negli ottavi di Coppa Quindi è una sfida che Rivedremo Udinese che gioca Con uno schema molto simile Anzi lo stesso 3-5-2 Anche se Runiaj E' molto d'utile Aveva provato anche la difesa a quattro Cono Coie Portiere molto interessante Difeso da un terzetto Formato da Cabasele Bijol E Touré perché Giannetti Non è disponibile Assente anche Pagero Così come il Nigno Maraglia Sanchez che Non è stato neanche messo in lista Serie A Al momento Per problemi fisici E Zibue E Zemura Sugli esterni Non sarà facile Perché danno tanta tanta corsa Lovric Karlstrom E Ekelkamp Questi ultimi due Rivelazioni E grandi Anche qui Scoperte da parte Della società friulana Con Toven Re di vivo E protagonista di un grandissimo inizio Di stagione E Lucca Come dicevamo A cercare Di contrastare L'Inter E Per provare L'Udinese Sì A tornare Da sola In testa La classifica Aspettando poi Le partite di oggi E quelle di domani Ricordiamo poi Alle 18 Genoa Juve Alle 20.45 Bologna Atalanta Invece domani Sarà il turno Del Torino Contro la Lazio Alle 12.30 Napoli Monza 20.45 E si andrà A completare Poi la giornata Con il Monday Night Parma Cagliari Lunedì Notizia Centrata Anticipata Prima di Chiunque Altro Rinnovo Di Dunfries Ve l'avevamo detto In tempi non sospetti Tutto apparecchiato Trovato 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 L'accordo Dopo le difficoltà Ancora beneficiando Del decreto Crescita E dunque Secondo me Anche se c'era qualcuno Che leggevo Contrario a questa operazione E non ne capisco I motivi Perché se non si fosse Riusciti A concludere Questo rinnovo Avresti perso Il giocatore A zero Quindi Non accadrà L'accordo È anche Addirittura Più lungo Di quello Di Di Marco Fino al 2028 Dunfries Passa Da due milioni E mezzo A quattro Esattamente Come L'aumento Che ha avuto Di Marco E come era Stata Fin dall'inizio L'offerta Dell'Inter Che è stata Ferma Sulle sue Posizioni Come abbiamo Detto Una società Che diventa Sempre più Forte Anche In ambito Contrattuale Delle trattative Che tiene il punto E non concede Nulla E non ci sarà Neanche la Clausola Come invece Chiedeva Dunfries Insieme alla sua Agenzia di Procuratori Per provare Poi a Sgattaiolare Magari A condizioni Favorevoli Verso la Premier League Invece Niente di Tutto Questo Dunfries Quindi firma Nei prossimi Giorni Fino al 2028 4 milioni A stagione Che col Decreto Crescita Però Ti costano Solo 5 milioni E 2 Con questo Rinnovo Anche il suo Peso Diminuisce Sul bilancio Quindi Operazione Top Da tutti I punti Di vista E speriamo E speriamo Questo rinnovo Possa dare Anche al Giocatore Quella Tranquillità Per ritrovare Continuità Ha fatto L'importante Gol di Monza Poi Sempre i soliti Alti E soprattutto Bassi Non sempre Dentro la Partita Ecco Speriamo Che questo rinnovo Possa invece Dargli Una spinta Un boost Per fare Una stagione Ad alto Livello Poi Si vedrà Anche in base A eventuali Offerte Quello che Sarà Il futuro Però Sicuramente Anche questa È un'operazione Portata a termine Da Marotta Ausilio Bacin Non si perde Più nessuno A zero Non ci sono Più rinnovi Diciamo Impellenti I giocatori Poi In scadenza 2025 Rimangono Acerbi Devrai Mkhitaryan Darmian Che hanno poi Tutti un'opzione Di rinnovo Per un'altra stagione E dipenderà Anche da come Saranno I risultati Sul campo Sperando che L'Inter riesca A concludere Anche questa stagione Con trofei Provando A correre Con la stessa Velocità Su tutti i fronti Soprattutto Campionato E champion Senza Perdere più Punti Per strada Senza Lasciare Un obiettivo Al posto Di un altro Ma con la testa Giusta Per Riuscire A portare A casa Il massimo E tutti gli obiettivi Che si cercheranno Di raggiungere Questa dunque La situazione Poi vedremo Anche come Si muoverà L'Inter Su tutta una serie Di giocatori Sono tantissime Anche di alto livello Che vanno in scadenza A fine stagione E L'abbiamo visto Questi sono i mesi decisivi Per trovare degli accordi Però È ancora presto E oggi L'unico pensiero Deve essere L'Udinese Un po' Di vostri messaggi Facciamo gli auguri A Stefania Che Oggi è il suo compleanno Ci scrive Interista Doc Sempre presente Andiamo A salutare Che mi Ero dimenticato In questi giorni Scusate Fabio Debbis Corrano Che mi chiedono Di salutare Il nuovo Interclub Di Lizzano Provincia di Taranto E saluto anche Gli amici di Taranto E la mitica Francesca E tutti gli altri Che mi hanno anche Scritto In questi giorni Difficili Salutiamo Facciamo il benvenuto All'Interclub Lizzano A Via Zanetti Nuovo Interclub Che salutiamo Poi ringraziamo Maurizio Pizza Claudia Tutti quelli che Sono stati Al nostro fianco Che mi hanno dato Tanto aiuto Sarà ancora Vi ho detto Lunga Difficile Però Un primo passo L'abbiamo fatto E speriamo Che possa Mettere un po' Tutto in discesa Dicevamo Messaggi Con più like Forza Forza A spammare anche I video Il link del video Per Aiutare il canale Roberto In merito Ai derby Della vergogna A quei comportamenti Di certi giocatori Che dovrebbero essere Degli esempi Invece sono Il contrario Roberto Scrive Prende 17 like Sono d'accordo Sono d'accordo Su quanto hai detto Sono episodi Che non dovrebbero esistere Soprattutto dagli stessi Giocatori Purtroppo Quando c'è Da scrivere Contro di noi Tutti sono pronti Vedi quando scrivevano Continuamente O ci davano addosso Per il nostro Deficit finanziario Ora che altre squadre Sono in rosso Crescente Ai Uve Meno 199 milioni Pensate un po' Tutti zitti Mi auguro che l'Inter Abbia voglia di riscatto Facciamo a vedere Dice Cristiano Al figlio di Gagliani Il labiale di Hernandez E chiediamo A quel gruppetto Di avvocati Juventini Di visionare Il bilancio Dei bianconeri Per vedere Se possono iscriversi Al prossimo Campionato Invece di parlare A sproposito Tra l'altro Leggevo prima Su Twitter Come A giugno Avessero chiesto Addirittura Avessero mandato Di fida Chiedendo rettifica A un articolo Della Gazzetta Che Ipotizzava Un meno 200 Di Di bilancio Sostenendo Che fossero Cifre sballate O comunque Che la Juventus Fosse vittima Di una Di un complotto E quant'altro Niente di tutto questo Cifre e previsioni Perfette Quasi Al centesimo Raffaele dice C'è chi definisce Provincialismo La soddisfazione Degli interisti Per essere usciti Indenni dal campo Del City Siamo Una dimensione Surreale Ma poi Voglio dire Anche Un po' Tutta la geografia Del calcio È cambiata Ma soprattutto Dal punto di vista Economico È sempre Un Davide Controgolia Che se riesce A fare risultato O comunque A mettere in difficoltà Chi ha molte più risorse Di te Se riesci a sopravvivere E a essere A un certo livello Anche dal punto di vista Internazionale Nonostante Grandi difficoltà Non solo finanziarie E bisogna solo Applaudire Marino Vorrei ricordare Che Di Marco Ha chiesto scusa Ai tifosi del Milan Non più di un anno fa Credo che Teo Hernandez Non lo farà Da qui si vede La signorilità Di un uomo E di una società Hai detto tutto Patrizia Farebbe giocare Taremi e Zilinski Credo che giocheranno In Champions Patrizia Andrea Non devi assolutamente Scusarti Marco Adesso vedremo Se è anche Il ritorno Al quartiere generale Darà i suoi effetti Abbiamo deciso Apposta Perché Da quando siamo fuori Non abbiamo vinto Una partita Hai detto delle cose Sacrosante Hai voglia Fare la morale Ai tifosi Quando in primis Dai tesserati Giocatori e dirigenti Escono dalla bocca Roba del genere Sono sconsolato Ritornando a Teo Hernandez Patrizia dice Sappiamo da che pulpito Vengono quelle parole Meglio lasciarlo perdere Luca De Feo Hernandez Non ha fatto Altro che continuare Quello che era iniziato Sul pullman Scoperto due anni fa Purtroppo vivono Un frustrante complesso Di inferiorità Ti sono vicino 100% informatica E ringrazio anche Tutti gli amici Che hanno mandato Dei super stickers Proprio per aiutarci In questo momento difficile Settelemaco Lo salutiamo Senza di te Non è inter Né buongiorno Però Da un bel po' Ormai abbiamo Ripristinato Il video Del tè caldo Anche a orari Consoni Quindi adesso Bisogna solo Cambiare marcia Anche noi E via Così Ritrovando Le nostre Consuetudini Bruno Nerazzurro Farei subentrare Frattesi Al posto di Barella Zilinski Per Mkhitaryan E Taremi Per Lautaro Che invece Secondo me Ha bisogno Di giocare Sbloccarsi E basta Kirk Voglio vedere Una reazione Rabbiosa A prescindere Da chi giochi E speriamo Che ci siano Le motivazioni Dopo il derby Ma soprattutto Perché non si possono Più perdere Punti Una società Con Ibrahimovic A capo Non sarà mai D'esempio Francesco Zapparat Bisogna rialzarci Più forti Che mai In diversi Attaccano Lautaro Come questo Signor Fabrizio Che dice Perché Oland Vinicius Lewandowski Sono sempre in forma E Lautaro Deve essere Sempre scusato A parte che Fabrizio Mi sembra Che Oland Quando becca L'Inter Non vede un pallone Non mi pare Che sia sempre in forma Anzi Ha Lisciato La finale Di Champions Anche l'altra sera Non ha visto Palla Stai dicendo Proprio cose Inesatte Ma adesso Questo prendere Di mira Lautaro Martinez Mi sembra Assurdo Poi Dagli interisti Dopo una stagione Top Del capitano Vuol dire Vuol dire che La Coppa America Lo scudetto L'anno scorso Abbiamo visto Cose non reali Siamo contenti Che stai meglio Lello Demon Sconfitta Nel derby Che forse Ci è servita Bisogna ritornare A essere umili E speriamo Appunto Che sia Una lezione Di umiltà Ci sono giocatori Meno forti Di titolari Mi auguro Che Enzaghi Non sbagli Ancora Formazione Secondo me L'abbiamo sempre Detto Tre cambi Sono Il numero Giusto Lascialo fare Dice Fiore Teo Hernández Perché in quel gesto C'è tanta frustrazione Dopo anni Di umiliazione E schiaffi Presi Sul campo Teo Antonio Dice Non vale niente Come uomo Gli erode Ancora Gli ultimi derby Più Lautaro Sta fuori E prima Lo recuperiamo Dice Josh Io non sono Di questo avviso Anche Claudio Dice Sta fuori Finalmente Lautaro Non ancora E questa Veramente Adesso Questa presa Di posizione Contro Lautaro Di alcuni di voi Proprio Non la comprendo Di cosa Parliamo Dice Fabio Già far capitano Teo Hernández In una squadra Gloriosa Come il Milan Si dimostra Una vergogna Per le parole Del figlio di Gagliani Meglio Il silenzio Fabrizio Credo che sia La partita Sia la partita Fondamentale Che ci farà Capire Che tipo Di campionato Ci andremo A giocare Diego Terrebbe in panchina Mkhitaryan Ma credo Che Adesso Anche Si penserà Alla Champions Anche Gigio Attacca Lautaro Sentite un po' Lautaro Si è tagliato Le ferie Ma non lo stipendio E tornato Dalla Coppa America Bollito Addirittura Finché Ha un po' Di valore Sul mercato Sarebbe meglio Venderlo E dare La fascia A barella Perudine Zaghi Dovebbe rilanciare All'inizio Darmiana Al posto Di Dunfris Gianpietro E qui ti ha sentito Frattesi Per barella E confermare La stessa formazione Del derby Non deve stare A cambiare Ogni partita 5 giocatori Mi sembra Che ci hai preso E far giocare Frattesi Al posto Di barella Zilinski Al posto Di Michi Che al momento Mi sembra un po' Di condizione Potrebbe essere Una soluzione Alessandro Uno su due Poi vediamo Come va la partita Occhio che di solito Quelli che dovrebbero Venire da noi Ci segnano Dentro Bissec Che questi di testa Sono forti C'è anche Quel Bigiolo Osservato speciale Che L'Inter segue Da tempo Che potrebbe essere Un'alternativa In mezzo alla difesa Di cui si è già parlato Salutiamo Ermes Forse l'unico derby Del tifo sano E quello di Milano Per Hernandez In perfetto Stile Milan Ambrosini Ibra E ora lui Poi non era stato Criticato di Marco Solo per un coro Sotto la Nord Salutiamo Roberto Stomaci Salvatore Gianpietro Straccia Non deve stare in zaga Cambiare sempre la formazione Sennò va in confusione Santoshrana Testa bassa Muti E pedalare Salvo Paolo Santucci Vorrei vedere Frattesi dall'inizio Per una prova Di maturità E lo aspettiamo Paolo Giulio Valdi Le espressioni Inqualificabili Di Hernandez Rivolte ai tifosi Nerazzurri al derby Non fanno che definire Il personaggio Paolo Gangemi Ti vedo in netta ripresa E questa è una lieta notizia Quanto visto a Genova È vergognoso Per una società civile Ancor più Se si tiene conto Dei valori dello sport Ricordiamo la nostra petizione Contro gli odiatori seriali Link in descrizione Doppio click E tanti di voi Non hanno ancora Cliccato e firmato La nostra petizione Fatemi un bel regalo Così come Cercate nuovi iscritti Al canale Salutiamo Massimo Castellini Alfonso di Costanzo Buendia Per me Zang è uno di noi E poi Interista e basta Giuse Ivan E tutti voi Che siete sempre Indrit Che sottolinea La prestazione Del figlio di Oba Oba Martins Con il Monza Marilena Partita difficile Lei farebbe Riposare Lautaro Però Si deve aiutarlo A ritrovare il gol A sbloccarsi In una partita Che è difficilissima Direi che ci siamo Aspettando la partita E magari una live Un po' di rassegna stampa Mattutina Gazzetta dello sport Inter Vietato sbagliare Prima pagina Dedicata al Milan Che trappola Udine Inzaghi vuole furore La spinta di Frattesi Per tornare a vincere I campioni Devono ripartire Dopo il K.O. Nel derby Inseguono il Milan Simone punta Sull'Azzurro E' un sabato italiano Ma non un sabato qualunque Come sostiene Sergio Caputo Non può esserlo Per Inter e Juve Dopo un derby Perso E tre partite Senza gol Con un Milan Straripante Che si è portato avanti In classifica La sesta giornata Sarebbe ridicolo Parlare Di turno decisivo E di classifica Ma di sicuro Non è un turno banale Perché Se non arrivassero I segnali Di discontinuità Richiesti L'aria nei due accampamenti Potrebbe farsi Un filo più pesante Le mission Di Simone Inzaghi E Tiago Motta Sono diverse Uno cerca furor L'altro I gol Formazione dell'Inter Confermata Quella che vi abbiamo detto In mezzo C'è Mkhitaryan Confermato Poi Dunfries Sì Al rinnovo 2028 Con un'opzione Per uscire Un anno prima Dal contratto Che è Una chicca Una piccola chicca La Tula Cerca gol Il calo di Turam Lo zero di Lautaro Inter Da riscatto Contaremi Invece pronto Per l'Europa Inzaghi Non cambia La coppia titolare L'argentino Contro il digiuno Il francese Per tornare Quello prima Della sosta Medi Invece Aspetta La Champions Altobelli Dice Lautaro Questione di testa Con un gol Tornerà Il solito Lo sappiamo molto bene Emergenza in difesa Per l'Udinese Cabasele Eture L'unico centrale Titolare disponibile È Bijol Test di fuoco Con i nerazzurri Bisogna approfittare Anche di queste difficoltà Degli avversari Corriere dello sport In copertina Il Milan E poi Un Tiago Che rivela la formazione Un Inzaghi Con tanta voglia Di blitz Però al momento Comanda Fonseca Tiago Spoiler Alla Juve Inter 3x2 Tre pareggi In tre trasferte Però Inzaghi Non fa sconti Lautaro Turam Partono in pole Taremi pronto Per la stella rossa A Udine Serve il primo blitz E sarà fondamentale Secondo me Soprattutto Turam Con le sue accelerazioni Per mettere in difficoltà Una difesa Dell'Udinese Che non è sicuramente Rapida E veloce Un focus Su questo inizio Di stagione Di Lautaro E Turam Quattro presenze Per Lautaro Zero gol 315 minuti Un assist Turam Cinque presenze Quattro gol Qualcuno anche vuole Dipingerci Un giocatore In difficoltà Poi Dunfries Con vista Sul 2028 Suo stipendio Sale a 4 milioni Accordo raggiunto Aggiorni l'annuncio La spunta L'Inter Niente Clausola Adesso Vorrà avere più spazio Anche qui mi sembra Che il canale Vi abbia anticipato Tutto in tempi Non sospetti Senza anche La clausola Con Le cifre giuste Come abbiamo fatto Con Lautaro Con Cialanoglu Smascherando Fake news Sul Bayern Monaco E così Continueremo a fare Soprattutto Adesso che siamo tornati Nel quartier generale Mi raccomando Quindi Occhiale Scaramantico Figurine Del nipotino Tutto pronto Per la partita Di oggi Mettete Like Condivisione Del video Siamo tornati E vediamo Di dare Una Sterzata Un cambio Di marcia E tornare A dettare Legge A far la differenza Con il Te caldo Più famoso Di youtube Buon sabato Italiano E poi Giornata da vivere Assolutamente Insieme Per tornare A vincere E cancellare Il derby E trasformarlo In una lezione Utile Per il futuro Siamo tornati In una lezione